Allora procediamo con le presentazioni, prossimo spettacolo dal 13 al 15 novembre e qui vedete l'integgerrimo, si può dire integgerrimo? Si può dire ma non lo è, per cui si, però si può sostenere come tesi. Si può sostenere, tanto può. Ah certo, certo. Massimiliano Vado e naturalmente Giulia Nervi che autrice e interprete di questo spettacolo si intitola tutto da sola, capitolo secondo, meglio sola. No, meglio sola. Meglio sola, gli accenti, meglio sola che sola, meglio sola che sola. È tutto un programma questo testo, Giulia? Ma sì, allora diciamo, noi lo definiamo questo spettacolo forse un po' impropriamente uno spettacolo di teatro canzone, nel senso che all'interno della narrazione dello spettacolo passerò in continuazione da cantato a recitato, così com'era in tutto da sola, capitolo 1. C'è sempre questa lezione artistica con Massimiliano, no? Eh sì, beh, che devo fare? Artistica ho detto, eh? Artistica, no, no. Sono un uomo sposato. No, ho detto di sonato, sì sì, ma volentieri anche, cioè lo faccio con erotismo intellettuale. Esatto. Beh, diciamo che per me è stata un'unione molto fortunata, nel senso che, come dicevo anche poco fa... La vincente non si cambia. Esatto. No, però la cosa bella di Max, anche lavorando sul primo spettacolo, è stato che io avevo tirato giù un'idea, una prima stesura del testo e poi piano piano, grazie ai suoi suggerimenti, sono arrivata paradossalmente a una cosa che era molto più mia di quella con cui ero partita. e quindi poi anche per il capitolo secondo ho chiesto il suo aiuto, perché poi abbiamo anche, non so, una visione simile di alcune cose. Si sospira, Max. No, no, questo, se poi andiamo a contarvi, è il terzo spettacolo che facciamo insieme, cioè in cui lavoriamo in qualche modo insieme. E ancora non ci siamo mandati a quel paese. Quindi ci dobbiamo aspettare anche un quarto. Ma se adesso vediamo come va questo, debuttiamo di venerdì 13, fatti due conti, ma è tutto è nato un po' per caso, perché un giorno ci siamo visti, volevamo prendere un caffè insieme da lì a lavorare insieme, è stato un secondo. Io ci sono delle persone che in questo mondo stimo molto e altre che mi passano completamente indifferenti. E poi ci sto io. E poi quelle che stimo tantissimo, tipo lei che è l'unica, sono quelle con cui poi voglio lavorare insieme, con cui in qualche modo voglio attuare qualcosa e ogni volta con lei succede qualcosa che mi interessa. E ormai, visto che non lo facciamo per soldi questo mestiere, in generale, nessuno di noi diventerà ricco, al massimo possiamo riparare lo scaldabagno, ma visto che lo faccio, almeno farlo con chi stimiamo, le persone che ci fanno un po' venire di fricci, ho capito? Sempre intellettualmente erotico. Sempre molto trashan, caro Mazza. Eh vabbè. Insomma, ci sarà tanto in questo spettacolo, ironia, divertimento, che gira intorno a questa singola, sul loro di una crisi di nervi? Sì, ma non solo, diciamo, quello ovviamente è un po' un pretesto per parlare poi anche di una serie di, secondo me, cliché all'interno dei quali una donna che compie 30 anni e li supera, si ritrova un po' ingabbiata, ma non solo le donne, anche gli uomini, adesso c'è, non voglio dare la colpa ai social, perché io li uso e mi piacciono un sacco, quindi salve, però il problema è vero che hanno un pochino acuito una serie di problematiche legate e stereotipato ancora di più, una serie di cliché per l'appunto, legati anche al genere, al fatto che uno nasce e cresce con la cosa, allora ti laurei, ti sposi, fai figli, complicati, esatto. Non si può rinunciare, noi rinunciamo, noi rinunciamo volentieri, però gli altri. Sì, diciamo che è un po' anche un grido di libertà da questo punto di vista, perché appunto non è detto che una donna superata i 30 anni debba necessariamente sposarsi, debba necessariamente fare figli, così come invece, andando poi un po' più nel profondo, la cosa anche per cui abbiamo scelto di usare come immagine anche di Locandina, sono delle mie foto vestita da Wonder Woman, non è perché io nello spettacolo interpreti Wonder Woman, però c'è un po' questa... Quello che ci si aspetta. Sì, esatto, ci si aspetta un pochino che ormai anche tramite social ognuno mostra sempre un'immagine di sé molto vincente e non ci si concede più il lusso di essere fragili e di poter ammettere... Sì, hai perfettamente ragione, insomma tutto in epoca di social. Esatto, per quello di cui non è... Dobbiamo sempre essere belli e vincenti, mazza. Non so di cosa parli. Mai stati noi. No, 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 allora, in realtà questo fa... adesso lo possiamo sfatare, Giulia non lo sa, fa parte di un grandissimo progetto che alla fine sfocerà tra una ventina d'anni alla pubblicazione di un libro in cui spiegherò agli uomini come funzionano le donne. Ora stiamo affrontando il tema della donna single, cioè l'uomo ha tre stati, che poi chi comprerà il libro leggerà, ma la donna ce n'ha 15 o 16 miliardi più o meno, vanno un po' spiegate, cioè per gli uomini sono difficilissime. Questo è uno spettacolo che può aiutare a capire l'universo femminile. È una sorta di bignami? È un capitolo di un piccolo bignami questo, è un capitolo interessantissimo di un bignami, però dobbiamo un po' far capire agli uomini che le donne sono ugualmente importanti, che hanno lo stesso peso, che hanno forse anche delle idee migliori, che sono più adatte a governare di noi, ma che sono complicatissime, non sono semplici. Loro dicono di essere semplici, non lo sono. È un universo a sé stante. Sì, nel senso che forse non sono nemmeno umane, sono un'altra razza aliena, che l'uomo da solo avrebbe vissuto benissimo giocando... Siamo un po' più semplici, diciamo. Ma volutamente, volutamente, per cui questo fa... Chi verrà a vederci capita delle cose e di Giulia Nervi, e ve le consiglio, e della donna in generale, single, cioè di quella che è superata i 22-23 anni, che è una cosa che è successa da poco, rimane single e si trova davanti a ogni Natale, ogni capitolo c'è una persona che dice, eh, ma quando ti sposi? Quando lo fai un bambino? Eh, ma un fidanzato, un filarino, capito? E anziché diventare rossi, Giulia ha scritto uno spettacolo che parla anche di questo. Bene, e allora sei stato estremamente esaustivo, caro Max, come sempre. Allora, tutto da sola, capitolo secondo, meglio sola che sola, scritto e interpretato da Giulia Nervi, regia di Massimiliano Vado, dal 13 al 15 novembre, qui ad altrove, teatro studio. Venerdì 13, ci debuttiamo venerdì 13. Riflettete, riflettete, è un buon teatro. Grazie ragazzi e buon teatro. Grazie. A voi. Ciao.